Il padre, il figlio, il spirito santo. Allora. Padre, io rubo. Pure te. Ma è un'epidemia? Rubo tutte le settimane sulla paga dei miei dipendenti. Ma che peccato. Non lo farò più, ve lo prometto. Mi legherò le mani. Oh, le mani ti servono per restituire il maltolto ai dipendenti. Sì, eh. Ora, ego ti absolvo, il nome dei padri, il figlio, il spirito santo. Vai con Dio. E poi che volete? La confessione. Ma mi ne partis, il spirito santo. Allora, figliolo, tu preghi? Io prego fino al frumento. Quindi dalla mattina alla sera? No, solo alla sera prego. E perché? È la notte che mi viene paura dell'inferno. Ma Dio non è paura, Dio è gioia, è felicità. E quindi pregalo in ogni momento. E cerca di essere felice. E la penitenza? Vuoi pure la penitenza. La penitenza è questa. Prega il Dio e cerca di essere felice in ogni momento. Vedrai che lo potrai lodare. La penitenza è quella di essere felice. Sì, grazie. Ego ti absolvo. Grazie a tutti.